Piacere le donne, piace ai bambini, ma c'è anche a chi non piace. Quando arriva, ucciditeli. Walker, Texas Ranger. Un classico. Sabato sera, su Italia Unica. Papà, hai commentato il canone del telefono? Ma ti sembra questo il momento di scherzare? Non è uno scherz, ma puoi risparmiare sulle telefonate con infostrada, senza canone e senza più fare l'1055. Chiedi subito come. Nevica nei tuoi capelli. Fructis antiforfora concentrato attivo di frutti. Fructis di Garnier è dimostrato. È efficace contro la forfora dopo solo sette giorni. Fructis. I capelli brillano con tutta la loro forza. Garantito da Laboratoire Garnier. Da sempre gli italiani hanno i loro santi preferiti. Da un secolo, quando serve, Magnesia San Pellegrino. Secondo la dose può correggere l'acidità di stomaco o stimolare l'intestino. È un medicinale leggere il foglio illustrativo. Magnesia San Pellegrino. Gli italiani sanno sempre a che santo votarsi. Come la Terra crea la fascia dell'ozono, una delle barriere protettive che la difendono, così anche il corpo crea le sue e protegge le tue parti più intime producendo l'acido lattico, che però può esaurirsi facilmente a causa dei ritmi della vita quotidiana. L'actacid intimo contiene lo stesso acido lattico usato dal corpo come barriera protettiva delle tue parti intime e ti lascia un piacevole benessere. L'actacid intimo, naturale, come il tuo corpo. Golia Active Plus, la caramella richiena di sciroppo balsamico. Golia Active Plus, respiro intenso, freschetta balsamica. Il nuovo Postal Market è in edicola. Compila il coupon e potrai diventare modello o modella. Su Postal Market in edicola ci sono nuove opportunità di lavoro. Postal Market ti offre prezzi eccezionali, grandi sconti e comode rave. Realizza i tuoi sogni con Postal Market. Solo chi, come Cirio, cura i pomodori dal seme al frutto, può garantire sapori genuini. Come la passata rustica, così ricca del puro sapore del pomodoro, che le basta poco per diventare un grande sugo. Passata rustica Cirio, il sapore come natura crea. Su Zucchini, tutto di serie? Niente di massa. Lo dico, lo sapevate tutti e nessuno mi ha mai detto niente. Tu lo sapevi, tu lo sai quanto mi piace. Ah, ma adesso voglio recuperare. E quanti acti devo fare? Tutti quelli che mi sono persi. Caffè H, il piacere di un buon caffè, tutte le volte che vuoi. Dottore, c'è una persona per quel lavoro. Per lavorare non c'è più bisogno di compromessi. Oggi, oggi c'è Temporary. Belle scarpe. Temporary, il tuo lavoro è il nostro lavoro. Personal Digital Solutions, da HP. Edro, dimmi, ti gusta la montagna? Mi rendito. Mi gusta, mi gusta. Si sente quando è estate. Un giorno come un altro esco di casa, accompagno Matteo a scuola e poi vado a fare un pagamento in banca. Arrivo e faccio 20 minuti di coda. Perché? Perché devo perdere mezz'ora per un bonifico? Perché non cambio banca se c'è Fineco? Che anche col telefonino mi dà l'estratto culto, i bonifici, le ricariche e in più posso investire. Perché non cambio se posso? Fineco, the new bank. Ogni mattina riscopri il piacere della genuinità. Fette biscottate e lullino bianco. Mangia sano e vivi meglio. Dominare i quattro elementi, sapere accendere un fuoco, trovare l'acqua mutabile, costruirsi un rifugio e procurarsi il cibo. In una parola, sopravvivere. In una parola, survival. In una parola, sopravvivere.